Oggi parleremo del costo del fotovoltaico, esaminando da vicino i suoi vantaggi e svantaggi. Il fotovoltaico è una delle fonti di energia rinnovabile più popolari al mondo e offre numerose opportunità per ridurre le spese energetiche e l'impatto ambientale. Tuttavia, come per qualsiasi tecnologia, è fondamentale comprendere i suoi aspetti positivi e negativi prima di intraprendere questa scelta. Quindi, accomodatevi e scopriamo insieme cosa c'è da sapere. Cominciamo analizzando i vantaggi del fotovoltaico.In primo luogo, l'energia solare è gratuita e inesauribile.Una volta installati i pannelli solari, non è necessario pagare per l'energia prodotta dal sole. Ciò comporta notevoli risparmi a lungo termine sulle bollette energetiche. Inoltre, il fotovoltaico non emette gas a effetto serra né inquinanti atmosferici durante il processo di produzione di energia, contribuendo così a mitigare i cambiamenti climatici e a preservare l'ambiente. Inoltre, l'installazione di un impianto fotovoltaico offre l'opportunità di diventare autosufficienti dal punto di vista energetico. Questo significa che si può ridurre o addirittura eliminare la dipendenza dalla rete elettrica tradizionale, aumentando la propria indipendenza energetica e proteggendosi da possibili aumenti dei prezzi dell'elettricità. Tuttavia, non possiamo ignorare gli svantaggi del fotovoltaico. Innanzitutto, l'installazione di un sistema fotovoltaico richiede un investimento iniziale significativo. Sebbene i costi siano diminuiti nel corso degli anni, l'acquisto dei pannelli solari e l'installazione dell'impianto possono richiedere un budget considerevole. È necessario quindi valutare attentamente il rapporto tra il costo iniziale e i risparmi energetici a lungo termine. Inoltre, l'efficienza dei pannelli solari può variare in base alle condizioni climatiche e alla collocazione geografica. Se la zona in cui vivi ha poca esposizione solare o è spesso coperta da nuvole, l'efficienza dei pannelli potrebbe essere ridotta.